Quando saremo a Reggio Emilia Quando saremo a Reggio Emilia Quando saremo a Reggio Emilia I creditor verranno incontro a Mondaris fuori la borsa Mondaris fuori la borsa quando saremo a Reggio Emilia I creditor verranno incontro a Mondaris fuori la borsa Che vogliamo essere pagati Quando saremo a Reggio Emilia I creditor verranno incontro a Mondaris fuori la borsa Che vogliamo essere pagati Grazie a tutti Grazie a tutti